Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone in vendita un appartamento, sito in pavia e la zona è quella del Borgo Ticino. Le parti comuni della palazzina sono state appena rifatte, ovvero facciata nuova e tetto rifatto. L'appartamento è stato ristrutturato una decina d'anni fa, quindi non richiede lavori di manutenzione. E' ideale per essere affittato ad uno studente, visto che è a metà di Via dei Mille, quindi appena prima della chiesa che dà su Via dei Mille. Le spese condominali sono minime, saranno all'incirca un 300 euro all'anno. E' ideale per ospitare due persone. Adesso diamo un'occhiata al bagno, lì hanno creato una grande doccia. i vetri sono vetri doppi. Ed infine diamo un'occhiata all'ampia camera da letto matrimoniale, che è questa. La via è una via molto tranquilla. Le altre offerte su bilocalipavia.it è stato ristrutturato. La via è una via.it La via è una via.it La via è una via.it